Lelio Miani è da tanti anni nell'ambito della preparazione atletica come preparatore del Villorba Rugby, sia per la squadra maschile che per le squadre giovanili. Allora Lelio, che annata sarà e soprattutto quanti anni festeggi di Villorba? Gli anni che festeggi di Villorba sono tanti perché la preparazione è che quando sono uscito dall'atletica, che poi sono anche rientrato, saranno 30 anni che alleno il Villorba tra anche qualche pausa dove è allenato la Benetton Rugby, il Modiano eccetera, ma comunque a Villorba in realtà sono sempre rimasto. Quindi tanto tanto tempo che sono qua, conosco i ragazzi da quando praticamente erano giovanili, adesso sono in prima squadra, prima ero in anni 12. È un salto, quello di Serie A, è un salto mentale importante ma anche sotto il profilo fisico bisogna essere temprati. Bisogna essere temprati, bisogna essere pronti. Io dico sempre che quando si va in Serie A bisogna avere la puntualità degli allenamenti, il sacrificio degli allenamenti e oltretutto direi anche a livello di alimentazione stare molto attenti. Io dico sempre ai ragazzi quando avete sete e aprite il frigo e vedete la birra, chiudete il frigo e bevete acqua perché la serietà parte anche da questi principi, sicuramente. Ecco, avere a che fare con un nucleo di atleti di vario genere, quelli più temprati, quelli meno temprati, porta delle difficoltà in questa fase iniziale di preparazione? Porta un po' di difficoltà, però bisogna cercare di rendere tutti quanti allo stesso livello, cioè veloci, resistenti, forti con la palestra, in modo da cercare di portare questi ragazzi a essere tutti partecipi e tutti che possono giocare senza problemi in Serie A. Ecco, come hai trovato i ragazzi in questi primi giorni? Beh, li ho trovati naturalmente allenati, ma non troppo, diciamo, perché c'è ancora tanto da lavorare. Quindi bisogna lavorare in metodi anche diversi, diciamo che rispetto all'anno scorso bisogna lavorare un quarto in più come intensità, bisogna essere appunto puntualissimi negli allenamenti, non bisogna trasgredire perché, io dico sempre, butta via la sigaretta perché è un danno per un giocatore che vuole essere professionale. Ci sono delle tappe di avvicinamento alla forma migliore, ovviamente, quali sono gli step adesso, nelle prossime settimane? Beh, intanto adesso partiamo a fare un lavoro di adattamento muscolare, c'è molta mobilità sugli ostacoli, lavorare molto sui piedi, pensare a reattività, elasticità, tutte quelle cose che rendono reattivo il ragazzo e anche sicuro di se stesso, cioè deve sentirsi sicuro, deve capire che la Serie A, se vuoi stare in Serie A, tu puoi essere un giocatore di Serie A, se ti alleni come un giocatore di Serie A, altrimenti vai in B, vai in C, ma non cerca una Serie A se non sei mentalmente capace di impegnarti a questi livelli. C'è qualche società che tu hai visto all'opera e che sotto il profilo fisico-atletico ti ha particolarmente impressionato l'anno scorso? Beh, no, diciamo no, sono tutti quanti i ragazzi adesso preparati, ci sono anche i bravi preparatori, io a volte dico sono stato il primo in Italia a portare l'atletica nel rugby, di questo sono un po' orgoglioso, ho allenato per squadre di livello e vedo che la serietà parte sempre dagli allenamenti, hai un risultato se ti alleni. L'anno scorso abbiamo partito un po' in mischia? Eh sì, abbiamo partito un po' in mischia perché eravamo anche scarsi di numeri in mischia, io penso che quest'anno ho visto dei ragazzi che potrebbero fare la differenza, senza dubbio. Ecco, però in compenso non abbiamo avuto grandissimi traumi? No, diciamo che non abbiamo avuto dei traumi come magari hanno avuto altre squadre, abbiamo anche un buon staff medico con la Barbara e altri che ci danno una mano e che sicuramente ha fatto anche questo la differenza. L'inverno porterà delle differenze? Beh, l'inverno porta delle differenze perché come sappiamo, quando mi dice il freddo, chi magari sa che gioca o non gioca, qualche allenamento non salta, io consiglio di venire perché in Arenda possiamo giocare quasi tutti.